...11-13 dei deputati Bratti ed altri concernenti iniziative di competenza per il pieno e regolare l'adeguamento degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflui al fine di preservare gli ecosistemi litorali settentrionali della Campania. Chiedo alla deputata Michela Rostan se intende illustrare l'interpellanza di quel cofirmatario. Sembra di sì, prego, a 15 minuti. Sì, Presidente, soltanto... Aspetti un attimo che... Sì, manca il Governo. Non vedo il Governo. Sono io che non lo vedo oppure non c'è? Non c'è, confermate. Sospendo per 15 minuti la seduta. La seduta ricomincerà alle ore 11. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.